Ciao ragazzi, sul canale, quest'oggi apriremo 4 box Lo studio in 2 video Ora e ho spumeggio, forza ho spumeggio Lo apriamo Eccoci qui 12 pacchetti come vedete Apriamo il primo pacchetto Ora apriamo il primo pacchetto Assorto foglietto Il muro d'acciaio CR7 Unico E' un buon popolo Plex Plex Unico Il tuo pacchetto Non si è Il tuo pacchetto Il tuo pacchetto 8 con il secondo paquette st cagliartene ho finito l'inter ragazzo ho finito l'inter raga ho finito l'inter le d'un 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 raga il d'un xd xd la natura dal bologna inizia di mancini inizia conto coppia del vino top player giro immobile xd 4 pacchetto xd top player che da bambini superio internetino plus xd 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 Fanno fordert jettopo Kitta Balder, Superdraft Plus Kurbalistella Top Plus Ospina Delforino, Manzarri Dickens Kitta 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 La natura del Milan Gattuso 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 Pimo doppione del Anatorio Angerotti Gattuso 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 Gattuso